ragazzi piontek doppietta ma incredibile ha fatto un golasso ciappano glutira non trattini silvestri ragazzi ma che gol ma che gol l'ho mai visto in tutta la mia vita ma che gol di piontek no ragazzi incredibile hanno annullato il gol di piontek no ragazzi hanno annullato l'euro gol di piontek è veramente successo si ragazzi sono svenuto no incredibile il gol di piontek no porca miseria maganiero di salvatore ragazzi qua dal passato è tutto iscrivetevi al canale guardate i video show ragazzi